E benvenuti a tutti i ragazzi, sono Riccardo e benvenuti sul mio canale Allora, oggi siamo su GTA 5 Allora, volevo fare questa serie a caso Ovviamente a caso, tutto a caso Riccardo, mamma mia con le organizzazioni, il master Però, dettagli Ora, io ho startato Ovviamente, nuova partita E andrà tra 3, 2, 1 E... no, è andato Va bene, intanto vi invito di lasciare un mega mi piace Di iscrivervi e di aprire la campanellina Se siete interessati ai video, ai miei video Avete capito che ricamento sto arrivando al 90% Devo arrivare al 100% Cioè, mamma mia Va bene Niente ancora Oh Ok 9 anni fa Oh my god E' andata non ci sono la tua visione Manda un giro Ok Ok Ok, come la visione Ok Ok, vai dietro a me pezzi Non c'è da me pezzi Ok, ok Dentro Dai Ok, non gli devo sparare a porto a pare Vai, 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 vai Ok Ok Quanto pare ho dovuto prendere il telefono Una bomba Ma davvero Oddio Ma chi è? Ma è troppo scommetto Vabbè Ok Ok, recuperati Questa è un po' che fa Questa è un po' che ci sia Un po' che mi piace La ponte di vista Oh mio dio Questa è una pezza Oh mio dio ok corriamo, 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 corriamo ok metti il riparo con R1 ok, messo possiamo andare con R1 3, 2, 1 ok si, degli inni ok st Come on, come on. Ok? ascolto qui andiamo il che butto ora è inolio sta Questa è stato in un giard descripciono! Non sei come lo stupendo come tu! F***! Let's go! Get to the car! Si, chiamo! Allora, ora! Che, 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 che! Che, 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 che! ok oh real oh mamma mia che furia oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit a quanto pare ora dobbiamo guidarmi a quanto, vedo ok, ora guido io a quanto d'ora ok ok calmi tutti, calmi mi stanno arrivando dove fate? vanno, 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 vanno eeeh ok no oh, shit oh che cavolo è tutto bene? sì, sono tutti sticci al plan sticci al plan Madonna Michael, la sangria Madonna me usa sangria E' ok Oh mio Dio, no OH SHIT Que no CABOLO Pure a lui, pure a Michael A lot of people Kill me, you pricks Die, you suck suckers Fucking die, all of you I don't know what you're talking about You fucking cock suckers Motherfuckers I don't know what you're talking about I don't know what you're talking about Fucking stay back, you come near me, you fucking dead Stay back No, 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 help me Help me Go, go Where's the other? Oh my God I don't see the other one now Ok I can't even remember I got it I thought I can't even remember I gotta get it He was not always a good husband He was not always a good citizen He did not die a hero's death Oh, ancora lì? Molto, bella ah i'm daft auto 5 eeeh ma sto finando di mangiare come on come on oh i am he is ah i am is it i am i am i am i am ok, devo toglierla radio perchè non voglio andare ok, devo andare a cercare ok, devo andare a cercare No. Eh, ma grazie! Cos'è che avuto il successo? no no oh 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 no 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 la 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Ok, 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 ok. Vai Frank! Vai, non ti fermo, non ti ferma. No, 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 no. Non posso, guarda... come on Frank whatever you say hey yo Frank I'ma make a withdrawal homie you dumb motherfucking oh no 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 I don't have to ask I can't see that bucket don't look like the whip we picked up existing damages motherfucker yeah whatever homie oh shit the one time be cool fool we got the paperwork whatever you explain that shit I'll see you at the dealership explain that shit my ass god madonna no I want to go I'm gonna go I'm gonna go I'm gonna go I'm going I'm gonna go I'm gonna go oh oh madonna madonna dove sta succedendo no 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 non so ne vedo un poliziotto no 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 è un porco schifo in ecco augur un 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 non sto scrivendo per nulla 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 dai venire l'amore ah c'è un gioco da effetto ah c'è un gioco Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Sì, è vero, è vero, è vero. Sì, 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 è vero. Andiamo qui. Sì, è vero. 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 Sì. Sì, è vero. Sì. è vero. Sì, è vero. Sì. Sì, è vero. Sì. Sì, è vero. 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 Sì. 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 Ok andiamo Il questo punk si riuscita, noi stiamo subito, homi. Si è finito per tutti questi bambini. E che cosa è che, il mistero 80's action movie body counting, bambino? Non giocare il gioco, solo si riuscite con questa bambina. Tu sippi, fool. Oh shit, he down! Take the bike and meet me at the car wash round the way. Take the bike and meet me at home. Come abbiamo fatto ragazzi? Dai madonna, come hai fatto? Come hai fatto? Non ho la modalità managlia. Eh lo so, non sono un gran tempo. Con la moto. Vabbè. Oh! Vabbè è anche la buona volta che lo provo. No, no. No, 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 no. Oh mio dio. eh ma che pareva Noi, non... ...I'm not gonna touch you. I'm still mad with you! Oh damn! No get it! You fucking idiot! Man, I can't hang with your ass for a while, bruh. You a psychopath! You done finally fucking lost it! Nigga! Ciao